Ma allora, non solo cover, non solo musica latina, non solo la musica pop, ma anche un po' di folklore. Maestro, io ho visto l'organetto, avete l'organetto? Io sono un appassionato di organetto e come ti ho anticipato, qualcosa forse vi voglio far sentire. Cosa ci fa ad ascoltare? La quadriglia del camionista, è vero? Realissimo, la tradizione non ci abbandona mai. Non perdiamo tempo, la quadriglia del camionista, l'organetto Andrea Bonifazi, musica maestro. Grazie. 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 Grazie.